Indossare un camice è come mettere un po' un mantello magico che abbatte e quindi riequilibria il genere, ma altre istruzioni per l'uso per le giovani ricercatrici che oggi in Italia hanno anche problemi di precariato e quindi vogliono e possono iniziare veramente con tranquillità a fare il nostro lavoro? Io penso che ci sia un solo modo per vincere queste situazioni, le difficoltà sono tante, le difficoltà sono tante, però mentre pretendi dagli altri un aiuto per vincere queste difficoltà ed è giusto pretenderlo, sei giovane, tu chiedi alle istituzioni eccetera, io guardo però sempre a me stessa, io nel mio lavoro guardo sempre a quello che posso fare io e quanto posso dare di più affinché io stessa posso essere un elemento di vittoria di quel precariato, quindi io continuerei a chiedere di più a me stessa e io quello che dico ai giovani e alle giovani mettete lì quintali di risultati, vi potranno ignorare una volta, vi potranno sconfiggere, mettere da parte una seconda volta, ma i risultati contano e il curriculum conta quando c'è e quindi questo è, d'altronde non possiamo fare altro, chiaramente lottare affinché nessuno abusi di questo e di nuovo è una lotta però che il giovane per primo deve assumere.